In questo weekend c'è stato un incremento notevole di prime ma anche di terze dosi. Sicuramente, da oggi entra in vigore il nuovo decreto del governo, quello sul cosiddetto super green pass. I catanesi hanno risposto in maniera importante, durante questo fine settimana abbiamo raddoppiato le prime dosi e triplicato le terze. Significa che i catanesi hanno capito, significa che il decreto del governo è servito a qualcosa. Speriamo di continuare così e speriamo che quello zoccolo duro di catanesi ancora non vaccinati si riduca sempre di più in modo che ci accingiamo tutti a passare delle festività serene con i nostri cari senza sembrarci col dovuto distanziamento ma in assoluta serenità. Siamo a un passo dall'80% di immunizzazione in provincia di Catania e contiamo di arrivare al 90% delle immunizzazioni entro poche settimane se i catanesi continueranno a rispondere in questo modo così ridondante ed entusiasta.